Cari bambini, che cosa faremo oggi? Oggi faremo la maschera della morte. Che cosa serve per fare la maschera della morte? Per fare la maschera della morte serve una birre. Fatevela aprire dalla mamma con le altre bottiglie, che non vi fate male. Birre, sigarette, ok? Vi raccomando se avete meno di 16 anni comunque, si vuole la sera sanitaria e tutte queste cose qua, fate la prestazione. Carte geniche, maschera della morte, colla viniliche! E' arrivata la colla viniliche da noi e mi raccomando un paio di forbici appuntite. Dopodiché il risultato finale sarà la maschera della morte. Però non c'è mai stato. Ditelo insieme a me! Nella morte! Bravi, bravi, bravi ragazzi miei, bravi!